Allora, ovviamente intervengo di nuovo per dire una cosa, che nel piano industriale di Ama sono dette molte cose di questo ordine del giorno e in realtà vedo che gli attacchi che vengono fatti dalle opposizioni non vanno a toccare un elemento chiave. Se Ama è indebitata per il gran numero di stipendi che vengono pagati agli amici degli amici che sono stati assunti in questa azienda e non è certo il problema di due persone. Intervengo anche per dire un'altra cosa, per quanto riguarda il terreno di Casalselce, quel terreno è in uso a Roma capitale. Io prima ho indetto di proprietà e è in uso, per cui legittimamente si può fare il lavoro che stiamo programmando di fare. Grazie.